Basket Club e Cub Solofra a ruoli invertiti. La scorsa stagione a fare la voce grossa erano i conciari che hanno letteralmente dominato il torneo, dall'altra parte invece il Basket Club che non ha sbalordito ma è comunque riuscito a qualificarsi per i playoff. Le stesse fasi finali che hanno visto eliminare entrambe le Irpine e soprattutto il Cub ormai certo di poter passare alla Serie C. Nello stesso anno solare ma a distanza di mesi le parti si sono invertite o quasi. Il Basket Club è senza dubbio la squadra più in forma del torneo, 22 punti all'attivo primato, ben 12 in più rispetto lo scorso anno, 958 punti totalizzati e quindi miglior attacco e quarta miglior difesa con soli 772 punti subiti. Dall'altra parte invece il Cub, situazione diversa, i conciari hanno cambiato guida tecnica allo sfortunato Monique, è subentrato un altro giovane, Umberto De Francesco, chiamato a salvare il Club giallo-blu che in queste prime 12 giornate ha trovato solo una vittoria contro Scafati. La prima gara dell'anno per l'Irpine si svolgerà il 6 gennaio, i conciari sfideranno in trasferta il Basket Club Airola, i biancoverdi invece il Volla, un 2018 che riserverà dunque non poche emozioni. Grazie a tutti.